Musica Bene bene, siamo qui tutte le mattine, puntualmente alle 7, dalla lunedì al sabato per mostrarvi con occhio i giornali le notizie principali sui quotidiani il resto del Carlino, Corriere Adriatico in edizione locale lo facciamo con grande piacere e grazie a tutti voi per seguirci anche sulle pagine social perché noi se volete possiamo anche essere seguiti sulle pagine Facebook e sulle nostre dirette naturalmente quindi se non siete a casa come sempre dico potete guardare quello che succede nella città di Fano guardiamo anche il santo del giorno e poi le previsioni del tempo quindi partiamo dal calendario sabato primo febbraio, oggi è il primo giorno di febbraio, ci siamo lasciati alle spalle gennaio Santa Brigida d'Irlanda, il sole sorgerà alle 7 e 25 e tramonterà alle 17 e 18 previsione del tempo all'insegna, possiamo dirlo, del bello, del sereno, del poco nuvoloso per questo fine settimana, almeno sulla carta, secondo la protezione civile delle Marche che ci annuncia che per oggi c'è un cielo sereno, poco nuvoloso e quindi insomma maggiori addensamenti si hanno sul crinale appenninico dove compare anche come vedete nel centro Marche la simbologia della pioggia e quindi precipitazioni possibili a carattere di breve piovasco più che altro sulle zone appenniniche e domani, domenica, vedete sole pieno nella nostra provincia nel nostro quadrante ma un po' su tutta la regione, lievi, velature più intense sui rilievi e quindi insomma nessuna precipitazione per cui sarà una bella domenica e anche per lunedì tutto sommato se non è zuppa e pan bagnato, insomma vedete didascalie e anche infografica abbastanza simile a quella di domani, domenica. Quindi insomma archiviato molto velocemente il tempo, c'era poco da dire, andiamo subito, vi porto dentro le pagine dei giornali partiamo con il Corriere Adriatico, boom di iscrizioni al Mengaroni, si parla di scuole e in cerca anche appunto in virtù di questo di nuovi spazi, il liceo artistico fa il pieno ma poi vediamo la fotonotizia, le immagini dell'apertura della bara del Beato Antonio la bara scoperta nell'intercapedine nella chiesa di Santa Maria Nuova queste sono le immagini dell'ispezione che è stata fatta al cimitero dell'Olivo qualche mese fa mummia in ottimo stato, una mummificazione naturale e quindi probabilmente grazie alla scarsa umidità di quell'intercapedine e i resti mortali del Beato sono rimasti in ottime condizioni un frate francescano morto nel 1435 che fu un frate non comune, fu il confessore di re Alfonso d'Aragona e quindi insomma ecco perché tante persone lo veneravano in quel tempo andiamo nella pagina di Ancona del resto del Carlino, in primo piano la tragedia l'incidente mortale lungo una statale, incidente in Umbria, Ancona-Perugia muore un consigliere comunale di Filostrano, eccolo qui Massimo Federici aveva 43 anni, deceduto sul colpo a Valfabbrica dopo un tamponamento con un tir stava tornando dalla ditta di Perugia per cui lavorava, lascia la moglie e due figli piccoli guardate come è ridotta la sua auto e poi di spalla cinghiali senza freni una piaga ovunque praticamente l'invasione è arrivata fino al mare e quindi insomma veramente ogni zona, ogni campagna, ogni entroterra subiscono questo flagello nella pagina di Pesaro, apriamo il resto del carino a pagina Pesaro si parla della vicenda della Berloni, ora è guerra agli ex dirigenti il liquidatore minaccia azioni legali nei confronti della vecchia dirigenza perché se si è arrivati a questo punto un motivo ci sarà e ora però si aspetta la svolta la fotonotizia è per questa donna, questa titolare di un bar presso di mira per pensate 12 volte, un incubo infinito e qui mostra il telefonino con le immagini della telecamera di videosorveglianza, anche qui di spalla i resti del beato santo e poi la protesta dei residenti di Santa Veneranda Doblò abbatte vetrata nel bar, guardate l'espressione sconsolata di questa titolare ormai è un flagello, dodicesimo furto, è un assedio Loredana Piovatici, titolare del Merck Siamo esasperati, ci posso ben credere il colpo è stato consumato in un minuto e mezzo ripreso dalle telecamere, portate via sigarette, gratte e vinci un bottino direi consistente perché di oltre 20.000 euro ma consistenti sono anche i danni, 5.000 euro, veramente una cosa incredibile Si parla nei giornali anche di questa morte, morte in circostanze misteriose tutte da chiarire, questo ragazzo di 38 anni, pesarese, Simone Vannella qui in un'immagine del suo profilo social che è morto in ospedale a Manacora, una località turistica del Perù dove è stato ricoverato in condizioni critiche e quindi questo pesarese muore nella notte tra il 28 e il 29 gennaio e ora il magistrato ha chiesto l'autopsia l'esito fatale dopo il ricovero si era trasferito in Sud America anni fa molto conosciuto, tanti amici nella città di Pesaro però per il rientro della Sarma quindi ci dovrà essere un lungo periodo d'attesa non sarà immediato perché l'immagine è ancora appena iniziata e sono molti i punti da chiarire di questa vicenda parla anche il Corriere Adriatico tragedia di Simone morto in Perù era un ragazzo allegro, solare mancherà ovviamente a tutti quanti il dolore degli amici ma anche la famiglia che si è attivata per riportare quanto prima in patria la Sarma del suo caro, però come abbiamo visto non dovrebbe essere una cosa immediata perlomeno bisogna attendere il nulla a osta dei giudici peruviani di Sesto Berloni ora si va a caccia degli ex dirigenti che sono presi nel mirino di Alessandro Meloncelli il liquidatore dell'azienda che dice insomma bisogna capire perché è dell'attuale situazione societaria, però buone notizie per i lavoratori perché è stata pagata quasi tutta la tredicesima ora si attendono la ripresa del lavoro che non dovrebbe arrivare prima di marzo quando dovrebbe subentrare la nuova proprietà ci sono diversi interessi, manifestazioni di interesse vediamo se queste si concretizzeranno dalla prima pagina le iscrizioni scolastiche, vola il Mengaroni il liceo artistico di Pesaro fa il pieno di nuovi studenti sci anche, nella sci anche gli indirizzi umanistici e scientifici dei classici che andranno a formare ripropongono chiaramente il problema degli spazi in centro e al campus quindi l'arte e la creatività fa tendenza e boom di iscrizioni sempre di scuola si parla nel resto del Corriere Adriatico però siamo in via la marmora, ultimi ritocchi e poi il rush finale entro febbraio la parte strutturale sarà terminata e quindi a settembre di quest'anno ci sarà l'inaugurazione di questa nuova scuola avete sentito ieri abbiamo fatto due servizi nel nostro telegiornale sull'argomento coronavirus e clienti in fuga come è ovvio pensare dai ristoranti cinesi e in farmacia file per le mascherine coronavirus tra trimori e psicosi ma il sindaco di Pesaro invita alla calma e dice invitiamo inutili discriminazioni Area vasta, sempre di sanità si parla l'area vasta dice che il direttore assicura nuove risorse in ballo ci sono ovviamente la pulizia degli ospedali e dei distretti c'è stato un incontro con i sindacati anche sull'orario di lavoro dei 117 dipendenti della Dusman e quindi il 27 adesso ci sarà un altro incontro si prenderà l'ultima parola i residenti di Santa Veneranda non mollano spunta anche una mediazione però l'idea del comune alla vigilia di un altro sit-in tenta una mediazione la controproposta di Belloni, dell'assessore dice senso unico in via del Rio per evitare appunto il caos di auto e mezzi pesanti che creano lo smog eccole qua, dalle pagine del resto del calino e le prime immagini del beato Antonio guardate le condizioni di questo frate morto nel 1400 morì tra i 40 e i 50 anni come età si è potuto risalire così a un esame visivo nel momento in cui è stata aperta la bara sono stati svelati un po' tutti i particolari da Valleremita sarà poi trasferito di nuovo a Fano una volta che verranno terminati i lavori che si stanno facendo appunto nell'ex convento dei frati minori ma sono tante le cose che si possono fare per cercare di capire meglio qual era la vita di questo frate ci sono esami chimico-strumentali anche per trovare una datazione certa c'è l'arcata dentale anche che è veramente intatta quindi questo potrebbe aiutare molto capire come si alimentava quindi insomma ricostruire un po' questa storia di questo frate che ha affascinato un po' così tanto quest'estate tutti i fanesi alla scoperta di questo personaggio illustre perché poi era venerato e beato appunto per questo per l'ordine dei frati perché era molto venerato e pregato dai fanesi in quel periodo quindi sicuramente qualche merito l'avrà avuto si parla nel resto del Carlino anche delle iniziative che si terranno quest'estate in una settimana per omaggiare il maestro del cinema italiano Federico Fellini a cent'anni dalla sua nascita una rassegna di opere per raccontare il rapporto tra la nostra città tra la città di Fano e il regista riminese perché forse non tutti lo sanno ma Fellini aveva un rapporto abbastanza simbiotico con Fano perché gli ricordava la sua vecchia Rimini nelle dimensioni nelle atmosfere quindi era un rapporto molto stretto molto vicino celebrato anche in alcuni film come Amarcord o La Dolce Vita dove ci sono proprio delle citazioni di Fano anche nei vitelloni insomma quindi questo è un aspetto che verrà approfondito in questa rassegna che andrà in scena nella Rocca Malatestiana quest'estate dal 4 al 9 agosto con film, proiezioni e quant'altro ma domani è la seconda domenica ecologica e quindi nuovamente tutto pronto per fare il bis questa è la mappa sostanzialmente non ci sono grosse variazioni rispetto a domenica scorsa se non in via Don Gentili è stato ripristinato il percorso che si fa quando ci sono appunto le chiusure dei carri per le sfilate dei carri di carnevale quindi insomma l'esperimento lì al Don Gentili non è andato benissimo e quindi insomma ci sono stati degli ingorghi per cui si è ripristinata la vecchia viabilità quella del carnevale sostanzialmente insomma quindi non mancano però ovviamente le polemiche in città sia da parte politica che anche da parte di commercianti e residenti del centro per domani quindi anche il Corriere Adriatico titola blocco del traffico graziati solo i residenti di via Don Gentili l'esperienza di domenica scorsa nel confronto con Pesaro dimostra però l'inutilità della misura contro lo smog nelle Marche però c'è chiaramente un fermento politico che si sta accendendo in virtù proprio delle elezioni regionali prossime venture archiviata l'esperienza emiliano-romagnola ora nelle Marche si punta da parte delle direzioni dei partiti a mettere in piedi le squadre per aggiudicarsi la reggenza direzione PD dove ci sono anche qui un po' di ballotti attesa per uscire dal guado quindi uniti per le Marche dice operazione Sardine insomma ci sono tante cose sul piatto gli aliati dei DEM definiscono le prime candidature alle regionali e quindi anche dalla direzione del PD ma anche da Roma dovranno arrivare indicazioni ben precise sulla ricandidatura di Ceriscioli ritorniamo a Fano con il Corriere Adriatico anche qui le immagini della mummia ecco la mummia del Beato Antonio la postura rivela la dignità del ruolo quindi insomma anche come è stato deposto nella bara e quindi insomma sono tante le cose che si possono approfondire appunto sulla vita di questo frate la bara è stata aperta 584 anni dopo la sua morte ecco qui anche le altre pagine che parlano del cantiere che è una telenovela siamo alla palestra di Cucurano ancora ritardi nei lavori Poi Nicolelli dice il tutto sarà pronto a fine marzo da Vallefoglia innamorarsi di Vallefoglia tutto pronto per il festival dell'amore tutti i modi tutte le coniugazioni possibili per appunto questo festival che tratta appunto dell'amore in senso lato non ovviamente in senso fisico scusate adesso apriamo il tunnel anche se non è la soluzione si parla della Fano Grosseto ieri il sopralluogo con i tecnici Anas e Fabri dice ci sono sul piatto 86 milioni senso unico e una corsia di marcia è una di emergenza fuori i tir over 3,5 tonnellate questa è una delle soluzioni possibili praticabili l'altra pagina di Urbino del resto del Carlino da marzo ci sarà l'isola pedonale a Valbona quindi insomma cambio di viabilità il sindaco Gambini lo annuncia sarà solo però per il fine settimana diminuirà il numero dei parcheggi lungo la via ci saranno anche delle sedute questa è via appunto via Valboni la visione di Valbona ovvero da via Mazzini quindi questi qua giù c'è il mercatale ecco ve lo faccio vedere c'è l'arco c'è la porta per chi conosce Urbino ha capito dove siamo in questo punto di Urbino Valmetauro Corte Alta sette buone ragioni siamo a Fossombrone per acquisire la stanza contesa la Corte Alta è un monumento storico sede anche museale di Fossombrone e ora l'assessore alla cultura Savelli sprona il sindaco a comprare il locale per creare un ulteriore polo museale dalla Valcesano la montagna si risveglia sanità e nuovo sviluppo e quindi questo è quello che ci arriva dalla Valcesano invece vi faccio vedere le ultime due pagine di Senigallia strada a rischio scattano i limiti velocità il quartiere ex piano regolatore 1933 ora si cammina a 30 all'ora vedete qui insomma siamo dalle parti del Cavalca del Cavalcavia poco fuori dall'autostrada qui diciamo questa è la direzione per Senigallia l'autostrada è qui alle spalle nuova decisione anche per il manto stradale che non si presenta in buone condizioni e quindi sarà tutta una zona un'area che subirà una modifica della viabilità della sua struttura l'ultima pagina che vi faccio vedere da Senigallia è il Corriere Adriatico per questo ponte il ponte Portone sul Cesano appunto che non gode di buona vita perché guardate com'è scorostato assediato dall'erba è ridotto veramente male male e quindi però sembrano scongiurati i rischi di natura statica però serve ovviamente un'opera di restyling andiamo a rivedere le prime pagine Corriere Adriatico iscritti boom al Mengaroni scuole adesso in cerca di nuovi spazi fa il pieno il liceo artistico ma la fotonotizia è per l'apertura con le foto che documentano questi momenti della la bara del beato Antonio la mummia si è presentata in ottimo stato e poi invece nella pagina di Ancona la notizia riguarda la morte di questo consigliere comunale di Filotrano in un tragico incidente stradale lungo la statale che arriva da Perugia lascia la moglie e due figli piccoli era insomma stava rientrando dal lavoro lo vedete nella foto questo imprenditore di 43 anni ancora l'ultima pagina che vi faccio vedere è quella del resto del calino di peso dove l'apertura riguarda la vertenza della Berloni e la sua messa in liquidazione ora è guerra agli ex dirigenti però intanto le tredicesime sono state quasi tutte pagate agli 85 dipendenti però la fotonotizia è per questa titolare di un bar che ha subito pensate ben 12 furti l'ultimo addirittura con una spaccata praticamente gli sono entrati dentro i locali del bar con un'auto e hanno portato via 20.000 euro di refurtiva tra grattini e sigarette bene questo è quanto per questo sabato per quanto riguarda naturalmente i giornali questo è il numero che vedete in sovraimpressione che vi serve per entrare in contatto con la nostra redazione oppure farci le vostre segnalazioni occhi ai giornali tornerà lunedì mattina alle 7 puntualmente questa sera però abbiamo il nostro magazine 7 per occhio che riassume un po' gli accadimenti infatti le notizie principali della settimana ma naturalmente poi se ci sono aggiornamenti di cronaca saranno presenti anche nel nostro magazine bene grazie e buona domenica ecologica a tutti voi arrivederci a tutti